Quale tribù riuscirà a trionfare? Oggi giochiamo a Mesos Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo Giullari come ogni lunedì e mercoledì siamo qui con un nuovo gameplay che quest'oggi è stato sponsorizzato da Cranio Creations E oggi vi portiamo nel mesolitico noi rivestiamo i panni di un capo tribù che deve un po' gestire questa nuova civiltà che si è formata perché comunque è nata questa nuova popolazione di cacciatori e raccoglitori che si è evoluta, quindi si sta dividendo in piccoli gruppi e ognuno ha una sua specializzazione iniziano ad esserci anche i primi edifici e noi in quanto capo dobbiamo gestire bene a chi affidare e quale compito affidare a vedere quali edifici possono esserci utili nella formazione della nostra comunità Ti ringraziamo anche Alberto Angela che oggi è nostro ospite Sì! link qua sotto in descrizione in questo gioco dove dovremo cercare di bilanciare tra il volere tanto ma poi giocare dopo, avere le ultime scelte oppure prendere poco ma scegliere prima degli altri una buona strategia può essere quella di stare nel mesos anche per fare un po' di quello, ma due giocatori no perché uno sarà primo, uno sarà ultimo quindi vedrete anche la versione dei due giocatori come vedete è già pronto sul nostro tavolo mesos dobbiamo anche gestire gli eventi che ci arriveranno e lui è uno degli eventi e lui che dice queste perle come vedete noi avremo queste tessere paesaggio che variano al variare del numero di giocatori quindi in una partita a due giocatori avremo soltanto queste quattro tessere così come cambierà anche la tessera iniziale siccome io sarò il primo giocatore ho il mio totem nello spazio più alto inizio con due cibi vale con tre cibi e iniziamo a rivelare le carte questa sarà una cosa che si farà tutti quanti i turni soltanto all'inizio della partita abbiamo creato il mazzo anche qua a seconda del numero di giocatori alcune carte tribù vengono rimosse il numero di edifici anche qui varia al seconda delle ere al variare del numero di giocatori e per iniziare noi inizieremo con rivelare carte tribù da mettere sotto la nostra zona di raccolta pari al numero di giocatori più uno quindi andiamo a rivelare carte se in questa fase dovessimo andare a rivelare degli eventi cosa che non è successa venivano immediatamente spostati sopra adesso andiamo a rivelare carte per la fila superiore preppare il numero di giocatori più quattro e tanto questa cosa ve la dovete ricordare solo poi della fila superiore di quella inferiore è soltanto un setup di inizio partita e basta così 1,2,3,4 questo è un evento ma nella fila superiore lo possiamo lasciare 5 e 6 vi facciamo subito vedere due tipologie di carte perché noi avremo sia le carte tribù che saranno in diverse tipologie che vi mostreremo nel corso della partita e poi avremo gli eventi che sono l'altra tipologia di carte riconoscibili perché non hanno l'omino della tribù e si saranno cose che noi sappiamo dovremo risolvere dovremo affrontare per esempio noi sappiamo che alla fine del prossimo turno di gioco ci sarà poi un evento di caccia e adesso noi siamo pronti a partire non prima di aver rivelato tutti gli edifici dell'era corrente e quindi in due giocatori c'è solo un edificio di era 1 mettilo pure laggiù come vuoi te quindi vi mostriamo l'edificio che avremo a nostra disposizione questo edificio ci dice in alto a sinistra che ci costerà 4 cibi per poter essere costruito sappiamo che ci darà alla fine della partita 4 punti vittoria in questo caso è un effetto che si attiverà durante ogni evento di raccolta che ci dice che non dovremo pagare un cibo cioè non dovremo pagare cibo per i raccoglitori un cibo è meno ma in realtà si paga un cibo per persona quindi non li dobbiamo sfamare i nostri raccoglitori perché mangiano già mentre raccogono e adesso iniziamo il gioco vero e proprio partendo dal giocatore che ha il totem più in alto quel giocatore andrà a selezionare una delle una delle tessere una delle tessere che ci permetterà di prendere o le carte inferiori o superiori o vedrete entrambi e io mi voglio mettere qua quindi avere la prima scelta e come indica anche la freccia sullo spazio dove mi sono messo potrò prendere una carta della fila inferiore quindi a me non ti cambi tu sai che io farò quello e quindi io so anche che il prossimo turno nuovamente giocherò per primo dai allora tu ne prendi una da sotto e io vengo qua ok una da sopra e una da sotto quindi adesso risolviamo da sinistra verso destra ogni giocatore prende le carte degli slot in cui si è andato a posizionare io vorrò prendere questo cacciatore ve la facciamo vedere un attimo questo è un cacciatore riconoscibile dal simbolo in alto a destra dell'arco e la freccia e i cacciatori quando li prendiamo possono darci del cibo se e solo se hanno il simbolo del cosciotto trafitto che state vedendo sulla carta in questo momento quindi questo cacciatore è andato a caccia e mi porta del cibo quanto cibo? un cibo per ogni cacciatore che io ho solo se quella carta ha il cosciotto quindi se il cacciatore non ha il cosciotto non mi da nulla nell'immediato ma mi va a creare poi più cibo per le prossime volte che prenderò un cosciotto e comunque inizio a prenderne uno dopo che risolviamo nell'intero tutte le carte che abbiamo preso andiamo a riposizionare il nostro totem nello spazio libero più in alto e io vado anche, visto che lo spazio mi permette di farlo a prendere un ulteriore cibo quindi chi giocherà per primo ha anche questo vantaggio di prendere cibo nelle posizioni migliori chi gioca per ultimo è vero che prende più carte ma dovrà in realtà pagare del cibo o perdere punti se non lo può pagare è il mio momento ne prendi una da sopra e una da sotto io devo prendermi qua un costruttore ok, i costruttori come state vedendo in questo momento il simbolo del martello, della mazza, dell'ascia in alto a destra e sotto c'è lo sconto in cibo che i costruttori ci danno nel momento in cui vorremmo costruire poi un edificio in basso a sinistra ci dice anche quanti punti vittoria ci darà alla fine della partita e da sopra è una scelta ardua ma vero da raccoglitore ok, i raccoglitori come state vedendo simbolo del raccoglitore ci dicono che negli eventi di raccolta abbiamo uno sconto totale di tre cibi questo per ogni raccoglitore che prendiamo dalla fila superiore noi potremo anche scegliere di costruire l'edificio pagando il cibo indicato ma non possiamo mai prendere né da sopra né da sotto gli eventi gli eventi rimangono lì e noi sappiamo che sarà una cosa che dobbiamo risolvere quindi anche vale ritorno indietro o paghi un cibo o perdi due punti vittoria si può andare in negativo con i punti vittoria non vi preoccupate e adesso fine del primo dei dieci round di gioco che succede alla fine del round? tutte le carte sotto vengono scartate vengono buttate via se sotto ci fossero stati degli eventi andavano risolti dopodiché tutte le carte tribù o evento o personaggio dalla fila superiore passano alla fila inferiore mentre gli edifici rimangono fissi nella fila superiore sempre e quindi abbiamo sapremo che alla fine di questo round si risolverà un evento di caccia per l'appunto e sopra come sempre quindi sotto non si guarda più esatto e sopra sempre si rivelano carte e pare il numero di giocatori più 4 quindi 6 però un sacco di eventi il prossimo turno quindi noi sappiamo che alla fine del prossimo turno alla fine di questo turno ci sarà l'evento di caccia alla fine del prossimo turno ci sarà l'evento sciamanico e ve lo facciamo vedere dopo quando lo risolveremo adesso no adesso no ci sarà l'evento delle pitture rupestre e l'evento dello sfamare aiuto 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 allora io farò io farò una cosa tipo questa ok ok e io farò questo ok quindi vale scegli una delle carte sotto che non può essere l'evento l'evento non è una carta che prendete rimane lì e saprete che lo dovrete risolvere chi ti pigli ok vale anche cacciatore ma a differenza del cacciatore che ho preso io non ha il cosciotto quindi vale non ottiene cibo io invece da sotto e ti prendo il cibo io invece da sotto voglio il pittore l'artista di disegni rupestri come state vedendo simbolo giallo questo non ha abilità ma come ci ricorda in basso sinistro il simbolino col punto esclamativo vuol dire si attiverà durante gli eventi della pittura inoltre daranno punti alla fine della partita i nostri pittori ogni coppia di pittori che abbiamo ci darà 10 punti alla fine della partita da sopra invece a sto punto mi prenderò lo scontatissimo sciamano ma è sui banale così? penso di sì così proprio banale banale penso di sì banane banane c'è anche quello che mi dà due di sconto sugli edifici però non mi dà punti quello che mi dà solo uno di sconto ma mi darà due punti alla fine della partita ma io vado sul banalissimo sciamano lo sciamano come state vedendo in questo momento simbolo dello sciamano in alto a sinistra e ha un quantitativo di stelle subito sotto in questo caso una stella in basso a sinistra anche c'è nuovamente il simbolino del evento sciamanico vuol dire che anche gli sciamani si attivano e danno punti nella fase di evento sciamanico e daranno punti al giocatore che avrà più stelline quindi chi ha lo sciamano più bravo fondamentalmente si giocherà più formato più competente in maggioranza e quindi torno indietro anch'io devo pagare un cibo ed eccolo qua e andiamo a scartare tutti i personaggi e risolvere tutti gli eventi presenti sotto in questo caso c'è solo l'evento della caccia che vi facciamo vedere un attimo è simbolino dell'evento della caccia l'effetto dice che in questo momento tutti i giocatori guadagnano un cibo e un punto vittoria per ogni cacciatore in loro possesso non importa sappia il simbolo del cosciotto o meno entrambi ne abbiamo uno quindi entrambi guadagniamo un cibo e un punto vittoria non sono tutti negativi o difficili da dover risolvere gli eventi bisogna semplicemente un po' prevenirli quindi possiamo scartare tutto abbassiamo le carte quindi sappiamo che alla fine di questo giro ci saranno un sacco tre eventi da dover risolvere in caso ci siano più eventi da risolvere li risolvete nell'ordine in cui sono se nel caso quello di sfamare la popolazione va risolto per ultimo e ci fossero due eventi identici può capitare in casi rari adesso vediamo come perché è comparsa la carta di era 2 può capitare che magari dovete risolvere un evento di era 1 e poi di era 2 entrambi sono della stessa tipologia li risolvete in ordine di era ma siccome è comparsa in cima al mazzo il numero 2 vuol dire che inizia la seconda era quindi l'edificio di era 1 passa anche nella fila inferiore e andiamo a rivelare tutti gli edifici di seconda era mettilo che sopra tanto sappiamo che è il nostro ok quindi ci da stelline e l'altro ci da allora sono io la prima risolviamo doppio l'evento di caccia quindi c'è sciamano ovviamente non c'è nulla 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 di ciò che potrebbe servire ma no non è vero qualcosa c'è insomma ma 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 facciamo sono molto indecisa ma a questo punto oh mamma mia dai vengo qua allora sei molto antipatica io? si allora io mi metto qui e così comunque prendo due carte ma di sicuro giocherò prima di te ne prendo una da sotto e una da sopra da sotto dai poi però devo mangiare e non ne ho ogni scelta è ardua sia la scelta di posizionamento di dove metterti e di dove prendere le carte la scelta delle carte e insomma guarda io da sotto si due ne hai voglio fare eh no ma è che poi non mi piace cioè cioè non è che hai molte no potrei costruire l'edificio certo l'edificio posso costruirmi l'edificio e poi prendermi il raccoglitore e però però da sopra mi piacerebbe quello mi piacerebbe anche prendermi un altro e sopra è interessante allora iniziamo a prendere lui quindi mi prendo questo costruttore che mi darà comunque due punti alla fine della partita e poi da sopra mi voglio prendere il cacciatore sì mi prendo il cacciatore siccome il cacciatore c'è il cosciotto guadagno un cibo per ogni cacciatore che ho quindi guadagno due cibi ritorno indietro e prendo ancora un cibo va bene allora io se cosa ti dico andrò anche io molto sul buonone vai tu ne prendi due da sopra io prendo un raccoglitore ok un altro raccoglitore per vale e a questo punto mi prendo e mi piaceva il pittore e queste erano belle e quelle erano tutte belle ma a me avere anche il secondo pittore non mi dispiaceva devi pagare un cibo o perdere due punti no pago un cibo ok scartiamo la carta solo al personaggio gli edifici continuano a rimanere ed eventualmente gli edifici della riga sotto se ne vanno all'inizio della terza era se ne vanno tutti gli edifici di era 1 non costruiti ma adesso andiamo a risolvere i nostri tre eventi il primo è l'evento sciamanico l'evento sciamanico ci dice che il giocatore che ha la maggioranza di stelline o tutti i giocatori in parità guadagnano 5 punti e sono tuoi e grazie il giocatore che ha meno stelline ma tu hai tutto meno stelline invece perde 3 punti quindi vai a meno 2 io ho 1 meno 2 io si calcoli a posto dopodiché evento delle pitture rupestri ogni giocatore che non ha pittori perde 2 punti ogni giocatore che ha uno o più pittori guadagna un punto per ogni pittore entrambi guadagniamo un punto un punto a te e tu scarti un meno 1 e io scarto un meno 1 dopodiché evento dello sfamare la nostra popolazione come vedete ci ricorda che noi dobbiamo dare un cibo per ogni personaggio che abbiamo oppure perdere un punto per ogni personaggio che non riusciamo a sfamare quindi noi paghiamo tutto il cibo che abbiamo e poi perdiamo un punto per ogni persona che non sfamiamo io ho 5 persone quindi devo dare 5 cibi ed eccoli qua io ho 1 2 3 4 5 persone ma i miei raccoglitori che mi danno meno 3 ciascuno ciascuno quindi 6 quindi non guadagna ovviamente la differenza però non deve pagare nessuno quindi scartiamo pure tutti questi eventi abbassiamo questi qua non abbiamo preso il construttore ma li cioè gli inventori ma li prenderemo e riveliamo al solito numero di giocatori più 4 4 5 e e abbiamo sempre i due edifici a disposizione ok quindi non ci saranno eventi alla fine di questo turno sei il primo sono il primo e sono il primo ho solo due cibi allora allora a l ora io dai facciamo una da sopra una da sotto ma mi interessa così non lo so una da sopra vediamo te cosa vuoi fare una da sopra vorrai più carte ma puoi pagare cibo o no facciamo sotto sopra ok quindi io ne prendo una da sopra e io o mi prendo quei due quello sciamano per avere tutte quelle maggioranze diciamo più sicure da quella fine della partita ma banale così noi tra l'altro sappiamo anche che alla fine della partita alla fine del mazzo ci sono due eventi che arrivano sempre e che saranno le ultime due cose che si risolvono uno è proprio un evento sciamanico che dà tanti punti o fa perdere tanti punti e poi ci sarà un ultimo sfamare la popolazione grande banchetto finale tra l'altro gli eventi man mano che si prosegue nelle ere diventano più più forti cioè danno o fanno perdere più punti ma io prenderò questo un terzo però cacciatore ma non avendo questo il cosciotto non guadagno cibo e vale e però vengo qua e uno lo prendo vale una da sopra e una da sotto chi ti prendi? mi prendo l'edificio ah da sotto vale costruisce l'edificio e quindi prego paghi tre cibi tre cibi perché lo scolto di uno e quindi vale d'ora in avanti a ogni evento del cibo non deve sfamare neanche i suoi raccoglitori e da sopra pensavo andassi a fare una coppia di eh lo so ci ho pensato ma e invece mi vuoi superare sulle cose se ne vanno questi tre inventori visto che nessuno li ha presi è una strategia in realtà anche volendo quella di puntare sugli inventori perché gli inventori come state vedendo simboletto della mano ognuno di loro ha sotto un diverso una diversa invenzione e noi alla fine della partita otterremo punti dagli inventori moltiplicando il numero di simboli diversi che abbiamo di invenzioni diverse che abbiamo moltiplicato per il numero di inventori che abbiamo quindi anche avendo due inventori che fanno la stessa invenzione l'invenzione conterrà uno ma comunque gli inventori sono due quindi faremo due per uno in quel caso e andando a cercare di accumularli nel corso della partita si arriva a fare tantissimi punti alla fine della partita ma state anche perdendo punti non mi ero messa qua non lo ci vuole dare quindi perdo altri due punti e scende anche quell'evento e quindi sappiamo che alla fine di questo turno chi avrà più stelline fa dieci punti chi ne avrà di meno perde cinque punti e ora è Vale che ne ha di più tre quattro quante invenzioni cinque e sappiamo anche che alla fine del prossimo turno che pizza eh sì eh ma mi tocca per forza dai sono già meno tre eh ma mi tocca per forza ti tocca eh lo so ti tocca fallo sì banale no ma io lo farei quindi tu lo faresti assolutamente io potrei anche decidere ora di fregarmene e non lo so e puntare l'altro ma non lo so neanche io o iniziare a prendermi perché poi io devo anche sfamare dopo eh e io non ho tutti i raccoglitori che hai tu e tutti gli sconti che hai tu è anche vero quello quindi in realtà vedi tu vai ne prendi una da sopra sì ma si risolverà dopo che anche tu ti sei piazzata certo vabbè e a questo punto mi metto ok e ne prendi due da sopra allora io mi prendo ancora mi prendo ancora un cacciatore va quindi non voglio andarti a superare sui sugli sciamani poi e guadagno un cibo e guadagno un cibo io gli sciamani me li prendo ah così vuoi essere proprio sicura sicura pensavo volessi prenderti due simboletti diversi e adesso le prendo il simboletto è un inventore oppure potresti costruirti un edificio ma non penso che tu abbia sufficiente cibo scusa ti invado un attimo vai 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 anche perché ormai vale tutti e sei e perdo altri due punti perché non hai cibo no mi piace l'arancione un bel colore l'arancione tanto poi a fine partita dei punti se ne ottengono tanti quindi fine del round se ne vanno questi personaggi risolviamo l'evento sciamanico dove vale fa dieci punti e io ne perdo cinque quindi io scarto cinque tu quanto sei io meno cinque quindi prendo cinque quindi vai a più cinque si voilà ok e guarda come si è ribaltata la situazione prego questo anche lo possiamo scartare queste si endono tac tac e una due tre che non fa schifo quattro cinque eccolo lì e sei vai è il tuo momento bravo grazie vai prendine una da sopra e una da sotto allora da sotto andiamo a prenderci questa ok è un simbolo che ancora non hai quindi sicuramente ti darà punti da sopra un altro raccoglito cioè ti proprio valga e ne guadagni uno io da sopra prendo il cacciatore che avendo il cosciotto mi dà cinque cibo e mi prendo un pittore pittore e torno indietro e devo pagare un cibo ecco mi mancava un passaggio tu sei pieno di cibo e adesso risolviamo lo sfamaggio quindi dobbiamo dare un cibo per ogni nostro personaggio o perdere due punti per ogni personaggio che non sfamiamo ecco come vi dicevamo diventano sempre più vale e io quindi ne ho uno due tre quattro cinque sei sette otto nove ma ho solo otto cavoli butto via tutto io volevo costruirmi quel cavolo di edificio otto quindi meno uno meno uno aspetta scarto un punto no due punti per ogni persona che non sfamo quindi perdo tutti i miei punti dunque io ho uno due tre quattro cinque sei sette ho allora non ho il conto uno due tre quattro cinque sei sette meno nove da un raccoglitori ma non deve pagare niente eh però non ho cibo la scartiamo questi scendono riveliamo carte una ah son prima che bello due tre quattro cinque mazza sei e era tre quindi scendono giù gli edifici e entrano in gioco gli edifici di era tre che sono tre e che costano anche diciamo e che costano chiaramente sempre di più mettilo pure lì allora ve li facciamo vedere un attimo i tre che sono usciti perché abbiamo dieci cibi e venticinque punti secchi alla fine della partita sei cibi e alla fine della partita faremo quattro punti per ogni nostro costruttore oltre a darci tre punti di per sé la carta e poi nove cibi e quando tocca noi scegliere ne possiamo prendere una ulteriore dalla fila superiore e quella è bella bella avere cibo però stita gente che vuole anche mangiare io non lo so prego vale si sto studiando eh studia studia quindi lì e per costruire edifici servono tanti costruttori fondamentalmente perché il cibo come vedete va via veloce veloce però non puoi avere tutto no una da sotto e una da sopra si si sei proprio ballosa sono banale due da sopra allora facciamo che da sotto eh vengo qui ok e quindi tu avrai meno tre disconti sulle costruzioni da sopra tu sei a quattro stelline vengo qua eh per forza le volevo tutte e due eh ciccio non è che proprio va bene essere gentile e mi prendevo solo questa eh a saperlo a saperlo e allora ti tolgo la maggioranza con gli sciamani va bene va bene quindi evento evento di pittura l'evento di pittura di seconda era ci dice che se abbiamo zero o un pittore perdiamo due punti se ne abbiamo due o più guadagniamo due punti per ogni pittore che abbiamo quindi io faccio sei punti dai qualcosa di no zero sono pelato e vale fai quattro punti tre e uno quattro va bene e questo lo possiamo scartare io quell'edificio là che non lo costruisco più ormai ma va bene ci sarà un evento poi della caccia che io speravo di arrivarci aspetta non abbiamo fatto sta cosa si tu prendi un cibo io ne devo pagare uno che non ho quindi perdere due punti giro un più uno in meno uno e ho perso due punti poi uno due tre io speravo di arrivare a questo evento della caccia con quell'edificio costruito ma non ce l'ho fatta sei allora allora ragioniamo non abbiamo fretta ragioniamo qui sotto sopra dunque che evento c'è caccia scusate ma qua da sotto facciamo così no dai io riuscivo a costruirlo mi prendevo sei cibi levati da lì mi prendevo i cibi e poi lo costruivo ma sei proprio una ma dai ma ma e vieni qua no no non mi interessa allora non mi interessa più scusa pizza che sei che pizza beh vieni qua te lo prendi costruirci sei pure primo stai in silenzio taci donna ah vedi lo prendo ma lo volevo costruire prima di risolvere questo evento costruirlo dopo non mi interessa più prendo sei cibo mi dispiace molto e poi prendi ancora un cibo io allora allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9 allora tant'ora niente 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 sei proprio pessima guarda un altro sconto da sotto quella e poi da sopra puoi costruire uno degli edifici di eratres se vuoi o prenderti un personaggio no mi costruisco visto che ho 6 di sconto sono indecisa 4 per ogni costruttore sono poi 12 punti alla fine della partita più 3 15 già non sono pochi valuti lei anche questo e però quella è sotto tu da sotto hai già preso devi fare sopra ah giusto giusto perfetto no no non si pone il dubbio hai ragione non si poneva il dubbio ok e però devi dare un cibo ce l'ho ce l'ho però scusami ah quella quanto costava 6 6 a posto devi pagare 1 tu hai lo sconto solo di 5 ah si non ce l'ho di 6 2 4 5 no lo sconto di 5 ma già e poi devi pagare un cibo bravo bravo eh ci ho provato no 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 questa la scartiamo si risolve l'evento di caccia e quindi guadagniamo un cibo per ogni nostro cacciatore e 2 punti per ogni nostro cacciatore ma dai quindi prendo altri 6 cibi e quanti ne hai 6 12 12 punti ma do guarda dammene solo 10 te ne do solo 10 e questo meno 1 mi diventa un più 1 e quindi sono 2 punti si è così è così fidatele io prendo solo un cibetto ok perché io mi do alla raccolta più che è la caccia e 2 punti si infatti tu sei molto più raccoglitrice via e queste scendono sei tu primo adesso sono io primo 6 1 2 3 4 5 e 6 vada tutto suo oh momo quindi si questo e c'è ancora un evento di caccia sarebbero 6 punti e 6 cibi 2 da sopra e allora io faccio così si da sotto si c'è anche quella mi arriveranno ancora poi di pittori più o meno come fa un pittore andò tu prendi solo da sopra io prendo solo da sopra e allora faccio questo da sotto e da sopra pago 10 cibi per prendermi l'edificione che mi darà 25 punti alla fine della partita i cibi sono qua da scartare boom e la vita le parei e vale 2 da sopra c'è un altro costruttore allora aspetta quel costruttore lì non arrivi a farti l'edificio la che costa 9 hai solo un cibo no no io scusate torno indietro e guadagno un cibo intanto beh il costruttore intanto lo prendo perché comunque per te sono 4 punti più 2 della carta e adesso c'è niente quello no sai cosa ti dico vai che io questo comunque me lo prendo sì penso volessi un inventore e non lo sai c'è anche questo edificio qua tu dici me lo posso costruire prima che sia finita la partita io ho 2 4 6 e 3 9 sto guardando a lungo andare ha completamente senso contando che quello là praticamente te lo fai gratis sì andiamo a risolvere gli eventi della fila inferiore vai e quindi facciamolo hai 0 o 2 pittori sì perdi 2 punti sì lo so io che ne ho 3 o più faccio 3 punti per ciascuno quindi faccio 9 punti ti do un 1 e prendo un 10 che bastonata pensavo mi dicessi un'altra cosa aspetta devo anche venire qua e dare un cibo ok queste si endono ci sarà un evento di caccia e andiamo a risolvere rivelare le carte siamo alla fine signori siamo alla fine ne riveliamo 6 e vedete quelle carte hanno il dorso diverso dalle altre perché sono i due eventi finali quindi questo sarà l'ultimo round di gioco e alla fine di questo round risolviamo gli eventi della riga inferiore e gli eventi della riga superiore quindi risolviamo tutti io ne voglio prendere 3 da sotto si può? no prego tanto tocca a te si 3 e 4 io non riesco a toglierti ho solo 4 cibi non riesco a mettermi qua e costruirlo io per toglierti quello perché ho solo 1 di sconto quindi cosa che a me serve fare potrebbe essere esagero io se lo ho anche per abbastanza allora facciamo così che io che a me quello vale io poi dovrò sfamare gente per cui non ho cibo no ma prima c'è l'evento della caccia per mia fortuna 3 3 6 3 3 6 7 8 9 10 12 13 ma io perderò punti comunque questo giro io perderò punti ma 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 mettiamoci in una condizione di tanto tu se vuoi costruirlo quello lo costruisci quindi io mi metto lì io ho la sicurezza di prendermi la carta che più di tutte in questo momento mi interessa allora considerando il fatto che due cibi io vabbè gli faccio mangiare un po' di pietre ai miei lo faccio solo così e allora scegli tu mi fai pure buttare via un cibo in più sei proprio una faccia di fontina vengo a farmi l'edificio e che lo fai gratis tra l'altro perché i tuoi costruttori ti danno fino a 7 di sconto e mi prendo un cibo ahah e perché prendere altri personaggi e io questo e li devi anche sfamare bisogna sfamare io prendo solo questa quindi finisce la nostra partita io torno indietro pago un cibo piangevano nel mesolitico sicuramente sì e andiamo a risolvere tutti gli eventi ricordatevi che se c'è un evento di sfamazione di cibo da mangiare si fa per ultimo prima risolviamo questo nell'ordine in cui sono quindi io guadagno sei cibi e tre punti per ogni mio cacciatore sei per tre diciotto hai un due? no va bene allora facciamo dieci quindici e tre diciotto sedici e tre ce ne ho quattro thank you va bene io prendo un cibo si schifo non fa e comunque tre punti comunque un cacciatore ce l'hai lì che sta lì e gira dopo di che andiamo a risolvere questo evento chi ha la maggioranza di stelline una signora che si chiama Valentina e quindi vale fai quindici punti io ne perdo sette mi dai un uno di resto un uno di resto ecco ti vabbè ma guarda lì che roba e poi diamo da mangiare alla gente e perdiamo tre punti per ogni persona che non riusciamo a sfamare io ne ho sei sette quattordici cibi devo dare tre sei fai prima tu allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici perché loro non li conti poi sono dodici meno nove tre tre devi dare tre cibi tre cibi io ho uno due due cibi quello che non riesce a sfamare ti fa perdere tre punti e via io andrò in negativo perché abbiamo detto che io ne ho sei quattro dieci tredici quattordici cibi da dare in realtà ne ho nove quindi ne avanzo cinque che non sfamo quindi perdo quindici punti che non ho preso neanche da questa quindi di cosa stiamo parlando a fare perdo quindici punti ed è finita la nostra partita andiamo però ad ottenere alla fine della partita i punti dati sia come ha riportato anche sulla nostra carta riassuntiva i punti dati dai nostri costruttori io ne ho uno che mi da due punti mi do un tre ti do un tre si eccolo qua tu vale per i costruttori quanti milioni di punti fai? allora sono due cinque sei nove nove punti per vale prendiamo un dieci e diamo il resto di uno dopodiché i punti per i nostri inventori abbiamo giocato pochissimo sugli inventori in questa partita e sopravvente che con gli inventori si fanno ottanta novanta punti 64 vale a due inventori quindi due moltiplicato per il numero di invenzioni diverse che hanno fatto ne ha fatte due e quindi sono quattro punti prendo no non ce l'ho quindi tre e uno quattro va bene dopodiché i punti dati dai pittori ogni coppia di pittori dà dieci punti io ne faccio venti io ne faccio dieci e poi i punti dati dai nostri edifici sia i punti dati proprio dalla carta edificio in sé che eventuali effetti di punti alla fine della partita io alla fine della partita ho un 25 punti ammazza allora vediamo un po' questo mi dà quattro facciamolo per volta così non mi confondo questo mi dà quattro otto dodici sedici più tre diciannove prendiamo un venti uno e questo mi dà quattro perfetto prendiamo un cinque e posiamo un uno e quindi contiamo i punti e chi ha più punti è il miglior capo tribù e quindi io ho fatto me li metti lì per umiliarmi no per far vedere no ma figure 20 30 40 50 60 65 65 e 65 e 9 74 io ho 20 40 50 60 65 68 vincere brava st'ultimo turno mi hai tolto tutto mi hai fatto perdere un sacco di punti brava la vera donna quindi quindi anche nel mesolitico il capo tribù donna riusciva a gestire meglio multitasking riusciva a gestire meglio mettendo solo ed esclusivamente i bastoni tra le ruote e gli altri io ho costruito raccolto qualche rito sciamanico e ha fatto in modo che io non riuscissi a fare i punti e niente cioè è stata antipatica tutta la partita ma signori e signori questo era mesos che vi ricordiamo potete giocare fino a 5 giocatori avrete più spazi azione ovviamente qua sul tabellone ci saranno tante altre carte che sono rimaste fuori tanti altri edifici che vi lasciano scoprire se vorrete acquistare il gioco vi ricordiamo il link qua sotto noi vi ringraziamo per essere stati con noi lasciateci un like commentate questo video vi ricordiamo che qui a casa Giullari si gioca per giocare Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi ciao